Ciao a tutti, da Mr. Dagui. Oggi ho voglia di cinese. Non voglia di un cinese, ma voglia di mangiare cinese. Vi porterò al grande mondo, qui a Palermo. Guardate qua sotto. Ci vediamo fra poco. Tengo qua. Questo è sono linguine con i gambe e verdure. Allora, grazie. È arrivata adesso Coca-Cola. Quindi, quando è grande? Allora, iniziamo. Siamo mangiando la cina di due. Questo è il cina di due. Allora, adesso. Andiamo al prossimo. Buon appetito. Grazie. Buon appetito. Buon appetito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.